vogliamo leggere in San Luca capitolo 7 verso 1 e dice così ora dopo che egli fu finito ora dopo che egli ebbe finito finiti tutti quei ragionamenti udendo il popolo entro in Capernaum e il servitore di un certo centurione il quale gli era molto caro era malato e stava per morire e il centurione avendo udito parlare di Gesù gli mandò degli anziani dei giudei pregandolo che venisse e salvassi il suo servitore ed essi venuti a suo servitore pregandolo che venisse e salvassi il suo servitore ed essi venuti a Gesù lo pregavano istantemente dicendo egli è degno che tu gli conceda questo perciò che egli ama la nostra nazione ed egli è quello che ci ha edificato la sinagoga e Gesù andando con loro e come egli già era non molto lungi della casa il centurione gli mandò degli amici per dirgli signore non vaticarti perciò che io non sono degno che tu enti sotto il mio tetto perciò ancora non mi sono reputato degno di venire a te ma comanda solo una parola e il mio servitore sarà guarito perciò che io sono un uomo sottoposto alla potestà alciui o sotto di me dei soldati eppure se dico all'uno va egli va se all'altro viene egli viene e se dico al mio servitore fa questo egli lo fa e Gesù dito queste cose si maravigliò di lui e rivoltosi disse alla Costitutine che lo seguitava io vi dico che non pure in Israele ho trovato una cotanta fede e quando coloro che erano stati mandati furono tornati a casa trovarono il servitore che era stato inverno essere sano benedetto il nome del signore cosa vediamo fratelli in questo passo della scrittura che questo benedetto il nome del signore questo centurione aveva ricevuto grazia dal signore il servitore era malato Gesù gli disse che ci andava quegli anziani gli raccontavano che era una persona che aveva fatto tanto bene nel loro paese anche fabbricato la sinagoga e noi vediamo che Gesù ci va ma prima che arriva quella persona incomincia a mandarsi delle persone e dice non c'è bisogno che tu entri ma solamente a distanza e il mio servitore dice una parola il mio servitore sarà guarito e Gesù disse alleluia è stata grande questa fede di questo centurione grande è la fede neppure in Israele ho trovato cotanta fede come dire nemmeno nei credenti tante volte si è trovato una cotanta fede gloria Gesù perciò fratelli alleluia rileghiamoci che il nostro Dio è potente Gesù Cristo il suo figliolo è grande è operatore di meraviglie e noi servendo lui saremo gloria al nome storie saremo usati come il signore il Dio usato Gesù Cristo come sono stati usati gli apostoli così saremo usati noi nelle mani di Dio per mezzo dello Spirito Santo che ci guida qui vediamo un uomo con una grande fede vogliamo avere noi questa grande fede e di essere sicuri che il signore ci guarisce di qualunque tipo di infermità e malattia alla parola di Gesù quelli l'ho ripetato famiglio in una parte dice o quel servitore fu guarito alla parola di Gesù Cristo noi veniamo guariti di sia umanamente e sia spiritualmente sia materialmente e sia spiritualmente vogliamoci affidare a Cristo e Cristo ci aiuterà e Dio Salva e Dio Salva